Grazie e sarò molto breve così faccio recuperare il tempo di quei minuti di ritardo che ho portato all'inizio e dei quali mi scuso. La prima cosa è un grazie di cuore a Tano Grasso per avere convocato qui e per aver organizzato questo incontro. Io sono un sostenitore di quello che il movimento anti-racket ha sempre fatto nonostante come diceva il dottor De Lucia prima e il prefetto dopo ci sono anche questioni anagrafiche di ciascuno di noi che hanno fatto incrociare determinati percorsi della vita a battaglie che sono state fatte. Nel senso che 25 anni fa io sostenevo l'esame di diritto penale forse nel senso che avevo 20 anni e studiavo a Milano, non ero neanche in Sicilia in quell'epoca. E però il movimento anti-racket mi ha assegnato appunto in quanto giovane siciliano e in quanto giovane siciliano che non stava in Sicilia. Perché? Perché c'è un elemento che a forza di fare le associazioni voi dimenticate di valorizzare e dovreste valorizzare invece di più che ciascuno di voi di suo non è che nasce poliziotto o ha scelto di fare il poliziotto e neanche di fare l'eroe e neanche di fare il funzionario di prefettura. Ciascuno di voi ha scelto di fare il commerciante, l'imprenditore. A un certo momento della vita volendo fare un'altra cosa si è trovato a fare l'associazionismo anti-racket. Ma non è che ciascuno di voi vuole al momento in cui decide di cosa fare da grande fare l'associazione anti-racket. Quello arriva dopo perché la vita vi è posto di fronte a un vivio. A me hanno chiesto il pizzo. Cosa faccio? Scelgo la strada dell'omertà, del silenzio, dell'inginocchiarmi o quella di combattere. Una volta che si è scelta la strada del combattere poi c'è un altro vivio. La faccio da solo? Quella strada la faccio in compagnia. Ecco voi siete persone che per due volte hanno scelto un vivio, ad un vivio hanno scelto una strada. La prima volta quando hanno deciso di protestare, di ribellarsi e di dire di no. E la seconda volta quando hanno scelto di farlo in compagnia. Secondo me questo elemento che è il dna più virtuoso di tutti voi perché qua ci sono tutti i vertici delle forze di polizia e c'è un importantissimo magistrato, c'è un prefetto al banco qui della presidenza. Hanno fatto un concorso per fare esattamente quello di cui hanno parlato questa mattina. Nessuno di voi voleva fare il concorso per eroe. Nessuno di voi voleva fare il concorso per ribellarsi al pizzo. Io credo io credo che ciascuno di voi voleva vendere qualche cosa, entrare nel mercato, seguire le regole e fare soldi legalmente. Io tra l'altro sono a favore del profitto perché ho una cultura diciamo mia che mi porta alla meritocrazia anche nell'ambito del mercato e dunque penso che chi fa soldi rispettando le regole è più bravo degli altri. E quindi credo che questo fosse il vostro desiderio, la vostra ambizione, vi siete trovati a fare anche un'altra cosa. Questo anche è merito nostro. Nel senso che lo Stato vi aiuta a fare anche un'altra cosa, cioè quella della ribellione, salvando l'attività di impresa. Perché se voi a quel punto faceste solo la ribellione perdendo l'attività di impresa, noi non saremmo stati, vuol dire, in grado di salvaguardare la ragione della vostra esistenza, che non era quella della ribellione, ma era quella dell'attività di impresa. Non so se sono stato... Ecco, questo era il concetto. Allora, il lavoro, il lavoro dello Stato è mettere quell'anche, cioè in modo tale che la ribellione diventi un anche, anche ribellandosi, si è imprenditori, commercianti, anche ribellandosi. Quell'anche vi deve aiutare lo Stato a mettercelo. Come vi deve aiutare lo Stato? Io ho molto apprezzato l'intervento del procuratore De Lucia, perché vi ha fatto l'ultimo focus di pentiti che hanno parlato e poi con un flashback vi ha riportato indietro a 20, 25, 30 anni fa, riportandovi le dichiarazioni dei pentiti di allora, evidenziando un filo di continuità da allora ad oggi. Allora, anche qui io per tweet, perché non voglio davvero rubare molto tempo, vorrei essere molto chiaro. Primo, questa roba qui è la negazione semantica della mafia, cioè non è uomo d'onore un uomo che costringe un altro uomo a inginocchiarsi perché con la pistola puntata gli deve dare una parte del proprio giusto guadagno. Questi sono uomini del disonore, altro che uomini d'onore. Questi non meritano nessun rispetto, altro che uomini di rispetto. Questi non sono una famiglia perché rovinano le famiglie. Ecco, questa è l'antimafia che a me piace perché è quella che contesta la radice semantica di cui loro si giovano per essere forti e cioè l'uso di parole belle rubate al nostro vocabolario per farle diventare parole simbolo che non meritano di finire nelle loro bocche perché non meritano onore, non meritano rispetto e non meritano manco di chiamarsi famiglia. Non meritano nulla di tutto quello che loro usano per essere credibili nella società. Altro tweet. noi il matrimonio contro la mafia come tutti i matrimoni necessita di due persone, si fanno in due i matrimoni e quindi se non c'è la collaborazione lo Stato, l'uomo in divisa o l'uomo in toga da solo non può combattere se non c'è questo matrimonio a favore dell'altro perché bisogna che ci sia il coniugio. Io aiuto se voi mi date informazioni, se voi vi fidate, io vi proteggo nel processo, nelle indagini, prima nel processo, prima ancora nell'ambito dell'attività investigativa e tutto ciò poi si traduce nel fatto che insieme si sconfigge. Questo insieme era l'oggetto della mia seconda riflessione, questo insieme apre la discussione e chi è raffinato giuridicamente la potrebbe sviluppare, io dico semplicemente che sono appassionato al tema, alla cosiddetta sicurezza sussidiaria, cioè lo Stato che si fonda sulla gestione del servizio sicurezza, che è anche un potere, dice non lo faccio da solo, lo faccio insieme, questa è la sussidiarietà orizzontale e il ruolo delle associazioni. Su questo ci si potrebbe fare un volume, un libro su come il concetto di sicurezza si è evoluto anche grazie a voi, cioè delle associazioni che hanno dimostrato che possono dare una mano d'aiuto a che l'obiettivo della sicurezza venga centrato dal titolare del servizio, lo Stato, che dice non lo faccio da solo, sono più efficiente se mi aiuta qualcuno, chi? I singoli ma anche le associazioni. Questo tema qui è un tema fondamentale dal punto di vista culturale nella modernità, noi lo stiamo sperimentando per esempio nel contrasto al terrorismo via web, chiamando Google, Facebook, IBM, cioè chiamando i grandi colossi del web a darci una mano d'aiuto, perché lì ci possono aiutare ad avere informazioni precoci per dire come questo concetto della sicurezza sussidiaria si vada dilatando sempre di più. Terzo argomento, noi abbiamo un privilegio che possiamo permetterci l'antimafia dei fatti, l'antimafia delle leggi, l'antimafia dei risultati concreti. Io ho un approccio molto pragmatico all'antimafia perché sono un siciliano che non si è mai ritenuto semplicemente un non mafioso o un amafioso, si è ritenuto un antimafioso perché ritengo che i mafiosi oltre a essere nemici delle loro vittime sono in generale nemici della Sicilia perché ci hanno rubato speranza, ci hanno rubato reputazione, un danno incalcolabile, un danno incalcolabile e quindi io ragiono sempre nella logica se voglio una Sicilia migliore devo avere una mafia sconfitta, se la voglio peggiore la Sicilia va bene la mafia così com'è. Ho ragionato sempre in termini pragmatici. Poi è chiaro che attorno al tema dell'antimafia si sono costruiti anche apparati e insediamenti ideologici. Chi li vuole coltivare è libero di coltivarli. Io ritengo invece che ciascuno nel posto in cui è stato messo deve fare praticamente qualcosa per fargli danno, tanto quelli al punto in cui siamo dell'antimafia delle parole non gliene frega più niente, anzi a volte secondo me provano a travestirsi infilandoci per tentare di averne un lucro in termini immunitari. Anche qui provo ad essere più semplice nel linguaggio. Camaleonticamente provano magari a infiltrarsi da qualche parte in modo tale che dice io ho questo mezzo patentino che qualcuno mi ha rilasciato e poi stai a vedere se il certificatore era buono o non era buono quello che ti ha dato il patentino di antimafioso e tutto quanto. Invece la modalità più pratica è i magistrati senza troppi convegni vadano al dunque e aggrediscano e secondo me hanno fatto un lavoro talmente importante che le lapidi del loro sangue e le loro morti sono la prova che non scherzavano. Cioè perché le hanno ammazzati perché hanno voluto togliere mezzo simboli sì ma anche la tenacia di chi stava realizzando dei risultati e per fare spaventare chi è sopravvissuto. È ovvio quindi noi dobbiamo fare cose concrete. Chi vuole fare i convegni benvengano perché il contrasto anche semantico e culturale è una roba importante però chi è sul campo deve fare cose pratiche. A me è capitata la fortuna che è una fortuna un privilegio nella vita soprattutto per chi come me ha passione pubblica o istituzionale di fare sia il ministro della giustizia che il ministro dell'interno e quindi ho potuto nel tempo intercorso valutare una roba che quando facevo il giovane legislatore all'assemblea regionale siciliana oppure poi in parlamento mi chiedevo sempre ma sta legge servirà avremo un impatto? Me ne accorgo se c'è la funzionalità della legge o non c'è? Bene sulle leggi antimafie mi fa piacere che lo abbia ricordato il procuratore dell'UCI e infatti intendo recuperare un concetto che ritengo importantissimo che ha detto lui poco fa sulle leggi antimafie noi abbiamo avuto la legge e i risultati delle leggi e non dobbiamo abbassare assolutamente l'efficienza nell'uso degli strumenti normativi. Cosa intendo dire? L'aggressione patrimoniale non è una teoria, l'aggressione patrimoniale sono leggi, la confisca per equivalente, la confisca in capo agli eredi, il rafforzamento di tutto l'apparato delle misure di prevenzione patrimoniale, abbiamo fatto le leggi, abbiamo fatto il codice antimafia, abbiamo fatto decreti per fare queste robe come necessarie e urgenti per il nostro ordinamento. Tutto questo poi ha un ammontare, cioè il frutto di tutta questa azione che si è svolta grazie ai magistrati e alle forze dell'ordine, qui c'è il capo della polizia, il direttore del dipartimento della pubblica sicurezza, c'è il prefetto Panza, tutto questo ha portato miliardi di euro ancora stamattina. I nostri poliziotti, i carabinieri, i finanzieri hanno sequestrato milioni di euro stamattina, mentre noi parliamo qua ancora ci sono i provvedimenti che sono in fase di consegna. E tutto questo ha segnato un punto molto importante, perché? Perché il mafioso mette in conto di finire in galera, anzi un pochettino di blasone glielo dà, è come uno del quartino di nobiltà, se finisci un pochettino in galera. Ma, ma, i soldi no. I soldi quello non li mi è perché diceva, allora di che cosa stiamo parlando? Se io poi non ho più i soldi e non li posso trasferire ai miei eredi, perché il tema era la morte come valvola di riciclaggio. Io muoio, mio figlio non è responsabile penalmente, i beni accumulati da me finiscono a mio figlio e se li gode lui. Più tradizionalista di questa come cultura. Siamo intervenuti lì e abbiamo ottenuto risultati, cioè c'è l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, abbiamo immobili, abbiamo aziende, abbiamo tutto quanto è la prova, soldi, liquidi, che il meccanismo ha funzionato. Vado a concludere. Se la cattura dei latitanti, e noi puntiamo sempre alla più grande delle catture, quindi io faccio sempre voti perché lo sforzo, noi ragioniamo su Matteo Messina Denaro, no limits, come lo spot della sector. No limits. Tutto quello che serve in termini di soldi, risorse, apparati, strumentazione, che lo Stato dia alle forze dell'ordine e alla magistratura per realizzare quell'obiettivo, noi no limits, li daremo, li abbiamo dati, se servono ce li chiedano. Ma siamo andati benissimo, chiunque di voi provi a immaginare l'album delle nostre carceri, tipo l'album delle figurine dei ragazzini, delle figurine panini, se lo sfoglia, vede lì in tutte le grandi squadre, che sono le grandi famiglie mafiose, o delle organizzazioni criminali, Indrangheta, Camorra, mafia, e tutti i grandi campioni, tutti in galera sono. Tutti lì. Manca quello, ne mancano degli altri, ma soprattutto manca Messina Denaro, e questo ha funzionato. Il sistema delle catture, ha funzionato il sistema del carcere duro, ha funzionato il sistema dell'aggressione patrimoniale. Diceva, e lo recupero pienamente l'argomento il procuratore, dobbiamo molto insistere su un altro pilastro, cioè impedire tentativi di riorganizzazione. E io vi devo fare complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, perché fin qui è andata bene. Ma se gli uffici stampa vostri fanno la raccolta, caro Tano, degli articoli che sono venuti fuori, sgominato un tentativo di riorganizzazione, presi mentre c'era un vertice, un summit nel quale stavano tentando di riorganizzare, ma ci sono decine di operazioni che sono state fatte e non dobbiamo mollare, perché loro non mollano e dunque non possiamo mollare neanche loro. Noi, nel tentativo loro non mollano nel tentativo di riorganizzarsi. In tutto questo, e concludo davvero sul tema specifico del racket e dell'usura, ringraziando sia il Presidente delle associazioni che le ha riunite, sia il Prefetto Giuffré, per quanto brillantemente fatto fin qui nel suo ruolo e le slide lo testimoniano. Io avrei anche da riferire della nostra gestione del PON sicurezza, ma vi porterei lontano. Quello che voglio dire è che il racket è importante per due o tre motivi e quindi sono i due o tre motivi che rendono fondamentale la vostra collaborazione e il vostro aiuto a noi. Il primo motivo è il cash flow, serve il liquido per rafforzare il sistema delle assunzioni, perché sono pagati, non è che sono volontari mafiosi, sono pagati e hanno bisogno dello stipendio. E non è che c'è un ente erogatore, l'ente erogatore è il capofamiglia e quindi ha bisogno di un flusso mensile. Allora l'idea che siano i commercianti onesti a pagare lo stipendio di quelli che poi gli devono andare a chiedere i soldi di nuovo è un'idea folle. Cioè il meccanismo che loro hanno messo in piedi è un meccanismo secondo cui ti intimidiscono, ti fanno paura, ti puntano la pistola alla tempia, paghi i soldi per finanziare lo stipendio di quello che poi te ne vengono a chiedere altri. Perché questo è il circuito? Ecco perché quel circuito va interrotto ed è chiaro che servono due cose per interrompere questo circuito. Il coraggio degli imprenditori e la forza dello Stato. Il coraggio di chi denuncia è la forza di chi deve dare la prova a chi denuncia e a tutti quelli che guardano chi denuncia che non corrono dei rischi loro. Perché io ritorno alla premessa, voi non siete nati eroi come non lo sono nato io, nessuno di voi avete voluto fare un'attività che vi ha portato ad un'altra parte. Ecco perché la forza dello Stato si deve manifestare nella vostra protezione e dunque semplificare le procedure come noi abbiamo fatto con delle norme, con dei regolamenti in modo tale che voi possiate essere quelli che danno coraggio ad altri. Voi avete un ruolo morale fondamentale che diventa anche pubblico e diventa anche istituzionale, cioè dare coraggio agli altri, a quelli che non hanno ancora trovato il fiato per fare una denuncia. Quindi la prima ragione era quella del cash flow con ciò che... Secondo il controllo del territorio. Ci sono regioni come la Calabria in cui il pizzo non si chiede, deve essere volontariamente consegnato a prescindere dalla richiesta. Perché già l'avere aperto un bar senza avere chiesto il permesso e dato il relativo pizzo non ti esime dalla ritorsione, cioè non ti fa scampare la ritorsione. Perché la reazione è, ma perché c'era bisogno che te lo veniva a chiedere? Non lo sapevi che dovevi chiedere permesso a me per aprire questo bar e mi dovevi dare il pizzo? C'era bisogno che io te lo venissi a chiedere? È una mancanza di rispetto. Quindi l'iperbole arriva addirittura al fatto che nessuno ti bussa alla porta. Sei tu che sai quel che devi sapere. E lo devi sapere per forza, se no ti si punisce. Dunque questo meccanismo di controllo del territorio e di intimidazione è la forza di quello che Santi Romano, che è un indimenticato giurista, chiamava dell'ordinamento giuridico parallelo. Cioè noi abbiamo usato l'antico brocardo, ma si applica all'ordinamento giuridico vero, non quello parallelo, che l'ignoranza legge se non è scusa. E quelli lo applicano pure. Cioè il fatto che tu non sai che mi devi dare il pizzo senza che te lo chiedo non ti scusa. Dunque ti faccio l'intimidazione e ti metto la bomba nel bar perché non me che... Questo controllo del territorio è la creazione di un ordinamento giuridico parallelo ed è quello che lo Stato ha interesse a stroncare. Ed è ordinamento giuridico parallelo perché c'ha il diritto civile, il diritto penale, la procedura civile e la procedura penale. L'esazione, la sanzione, le regole, gli inadempimenti e la punizione. Ha tutto. Ed è quello che il vostro coraggio può fare cortocircuitare. Finisco. Il tema del racket, oltre a essere il tema del cash flow, oltre a essere quello che più è penetrante come affermazione dell'ordinamento giuridico parallelo, l'altro tema del racket è la prova della sopravvivenza di una organizzazione consolidata in termini complessi. Cioè non c'è la rapina di uno che fa parte di una baby gang e va lì e fa quella cosa e basta. No. È un meccanismo organizzato che esso stesso è la prova che la mafia esiste o l'organizzazione criminale esiste ed è forte. Perché se la dividono per quartieri, se lo dividono per zone, perché i redditi vanno distribuiti per i picciotti in Sicilia o per altri con altri nomi nelle altre regioni e nelle altre organizzazioni criminali. Quindi il fatto stesso che questo apparato organizzativo sia lì in campo è la prova che c'è una organizzazione criminale, quindi un'organizzazione criminale che esiste sul territorio, che ha bisogno di liquido e che si pone come ordinamento giuridico parallelo. Tutto questo in conclusione perché l'ho detto per dirvi contro cosa noi tutti insieme stiamo lottando. Questo insieme è la forza, caro Tano, di questi 25 anni. Prima si era gli uni contro gli altri addirittura, perché c'era uno Stato che aveva margini importanti di collusione e c'era la paura da parte dei commercianti e degli imprenditori. Poi c'è stato qualche eroe dello Stato che ha pagato con la vita la lotta alla mafia e c'è stato anche il risveglio delle coscienze di chi non ha avuto più paura e ha vinto l'omertà e il silenzio con la parola e con la denuncia. Queste due cose hanno cominciato a parlare tra di loro e hanno fatto leggi, hanno mandato in galera le persone, hanno realizzato importanti risultati. Io non entro nelle antimafie come le chiamava Tano Grasso perché è un dibattito che ci porterebbe lontano e voglio tenermi a livello pragmatico. Quello che dico è ciascuno che si chiami antimafia di un tipo, di un colore politico, di un altro colore politico, l'importante è che si abbia dritta davanti agli occhi qual è la meta e la destinazione, che è la sconfitta della mafia. Tutto questo ha senso se si avvalora quel senso di insieme. Se c'è la parola insieme c'è la parola di una squadra, c'è il senso di una squadra Stato. E io dico sempre che la squadra Stato non dà la divisa per giocare solo al politico, al membro del governo, al membro del Parlamento, all'uomo delle forze dell'ordine, alla magistratura. Ma la maglietta della squadra Stato, anche se non si è vinto nessun concorso per entrare nella pubblica amministrazione, ce l'ha chiunque in Italia si senta di giocare nella stessa metà campo di tutti gli altri la partita contro i veri avversari che sono i criminali, che vogliono fare perdere una squadra che è destinata a perdere se si divide. È destinata a vincere se gioca unita. Grazie.